Ciao ragazzi ben ritrovati in questo secondo video della giornata era doveroso da parte mia farlo perché è uscita una nota molto interessante e tecnica per quanto riguarda la nuovissima patch 1.5 che sta per uscire per Automobilista 2 è doveroso da parte mia anche ringraziare Rosario che mi ha fatto questa segnalazione grazie Rosario in questo video voglio raccontarvi due cose la prima è di che cosa parla e che cosa ci dobbiamo aspettare di questa patch 1.5 e la seconda è una riflessione totalmente mia sull'incoerenza umana ragazzi allora vado a leggere quali sono le novità di questa patch 1.5 che promette di rivoluzionare completamente il gioco e che speriamo faccia decollare questo titolo dei Reiza Studio perché secondo me merita allora rinnovamento totale della fisica 272 fisiche riviste per cioè 272 classi 262 mezzi ragazzi 272 fisiche che erano completamente diverse l'uno dall'altro 272 la risoluzione di un bug tecnico che causava comportamenti bizzarri delle auto e questo lo sappiamo benissimo 282 il miglioramento delle sospensioni le geometrie ora sono molto più accurate rispetto al modello precedente 282 sono stati riviste i rapporti tra molle e ammortizzatori che anche questo giocavano molto sul comportamento delle auto rivisto anche la termodinamica delle gomme e la deformazione della carcassa delle gomme adesso se riesco vi metto un video per farvi apprezzare il movimento e come funziona l'ottimizzazione dei differenziali per avere una maggior gestione della maneggevolezza dell'auto aggiustamenti delle curve di coppia del motore implementazione di nuovi sistemi come ad esempio il DRS frontale per la Sigma P1 G5 e i sistemi EDIF per la McLaren 570 GT4 o altre auto o le auto TSI Cup è stato ottimizzato il force feedback proprio per adattarlo a questa nuova fisica e per avere sensazioni più dettagliate appunto del movimento dei pneumatici e delle sospensioni proprio in vista di questo miglioramento totale è stata fatta un'immensa raccolta dati su ogni auto per assicurare che le simulazioni siano più accurate possibili ed in più è stato rivisto il life track quindi anche il comportamento delle superfici dei tracciati proprio in vista dell'arrivo di questa Drain Lining Pack compreso nella 1.5 che prevede l'introduzione appunto delle auto rally anzi rally cross quindi il life track è stato rivisto anche in questo senso qua quindi questo è quello che ci aspettiamo è tutto positivo sono veramente felicissimo di questa patch che finalmente arriva presto e prima del previsto noi avevamo fatto una precisione di Pasqua 2025 perché siamo abituati con i Raysa che sono abbastanza lunghi con questi tempi biblici quindi tutto positivo ragazzi ed è una notizia fantastica perché se effettivamente quello che dichiarano dovesse essere vero è positivo perché adesso vi leggo cosa dichiarano ecco perché arriviamo poi come vi dicevo all'inizio del video all'umana incoerenza con Automobilista 2 versione 1.5 l'esperienza di guida si prevede senza eguali nel mondo dei simulatori di guida la combinazione della dedizione del team e della capacità del motore di fisica Madness ha dato vita a una potente e completa simulazione promettendo un'esperienza piacevole per tutti i giocatori ora perché io vi dico e veniamo al secondo punto l'umana incoerenza ma come Renato Simeoni che è il CEO di Raysa Studio dichiara una settimana fa a Rays Department ma no noi siamo un sandbox noi non vogliamo essere il simulatore per eccellenza noi allora ti sei nascosto una quindi ecco perché dico incoerenza ragazzi è che siccome non avevano trovato la quadra e non sapevano proprio che andazzo c'era dice no noi vogliamo solo dare esperienze tu prendi tutte le classi di auto cioè vabbè la fisica ora l'hanno trovata e dichiarano che l'esperienza di guida si prevede senza eguali nel mondo dei simulatori di guida qui le cose sono due ragazzi o ci hanno beccato e noi siamo tutti felici perché abbiamo un titolo che merita di essere presente nel panorama del mondo della simulazione oppure sarà una granciofega va bene ragazzi spero che non lo rompano e spero che questo video e questa notizia vi sia piaciuto quindi vi invito a lasciare un like non esitate a commentare ditemi che cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ah l'umana incoerenza ragazzi finchè non trovavi eh Renato finchè non trovavi la quadra no ma noi non vogliamo ora vi hai trovato la quadra forse saremo noi come direbbe come direbbe qualcuno ma baffanculo vabbè scopriremo insieme quanto vale questa 1.5 grazie ancora una volta per avermi seguito un abbraccio commentate lasciate un like iscrivetevi al canale ciao